buongiorno a tutti buon venerdì oggi parliamo del calcolo degli indici che è un argomento molto molto complesso però io lo affronterò in maniera molto molto semplice non voglio essere più noioso di quanto non sia necessario allora la formula generale da cui si parte è questa qui P sta per fenotipo perché in inglese fenotype che scrive con la P G è il genotipo ed E è l'ambiente visto che è environment che cosa significa questa formuletta significa che il fenotipo che è tutto ciò che noi osserviamo e che può essere misurato quindi la statura il peso l'età o per esempio nel nostro caso i chili di latte il grasso la proteina la mammella la posizione dei capezzoli quindi tutto ciò che noi osserviamo della vacca è sostanzialmente determinato dall'unione di due fattori la genetica e tutto ciò che è genetica non è vi faccio un esempio molto molto banale voi prendete 20 giovanotti 20 ragazzi in 20 anni e li mettete in piazza alle 3 del mattino e li bagnate per un'ora con un getto d'acqua fresca poi li lasciate lì bagnati alle 3 di notte e l'indomani mattina alcuni di questi 20 saranno a letto con la febbre alcuni avranno una polmonite spero pochi alcuni avranno un raffreddore e alcuni non avranno niente perché se voi sottoponete 20 ragazzi giovani allo stesso identico trattamento che in questo caso quindi sarebbe l'ambiente rispondono in maniera diversa perché non sono tutti ammalati o perché non hanno tutto il raffreddore o perché non sono tutti sani quindi perché si differenziano le loro la loro risposta perché ciò che li differenzia è la g quindi che cosa rende questi 20 ragazzi diversi l'uno dall'altro il fatto di avere un genotipo diverso quindi di avere ereditato dai genitori degli alleli dei geni diversi il che fa sì che anche la risposta immunitaria e quindi la risposta alle sollecitazioni dell'ambiente in questo caso le 3 del mattino con la canna dell'acqua che li bagna la risposta è quindi diversa perché è determinata dal loro genotipo quindi ciò che noi andiamo a misurare per esempio la febbre dei ragazzi è determinata dal fatto che li abbiamo bagnati lasciati bagnati fra dice le tre di notte in piazza ma è determinata anche dal loro genotipo certo se ne avessimo bagnati soltanto tre e gli altri 17 no non riusciremo a fare dei confronti ed è esattamente qui che arriva il problema del calcolare degli indici genetici cioè noi misuriamo un qualche cosa che può essere per esempio il latte e quindi abbiamo due vacche una fa 30 litri e una fa 35 litri di latte sappiamo entrambe che sono determinate dal genotipo più ambiente ma quello che cerchiamo di capire è da dove arrivi questa differenza di 5 litri di latte arriverà dall'ambiente o arriverà dal genotipo o arriverà in parte da uno e in parte dall'altro allora quello che si fa si è fatto negli anni è stato per tantissimi anni di costruire dei modelli matematici che mettessero da una parte la produzione quindi il fenotipo in questo caso i litri di latte e poi mettessero una serie di fattori che cercavano di spiegare questa variabilità di 5 litri e per esempio uno dei fattori che ormai si usa come fattore di correzione è quello che si chiama herd year e season cioè allevamento anno stagione nel senso che dipenderà ci sarà una differenza una parte di questi 5 litri sarà spiegata dal fatto che vengono da due allevamenti diversi herd sarà magari spiegata dal fatto che hanno partorito in due anni diversi e sarà magari spiegata dal fatto che hanno partorito in due stagioni diverse ovviamente sì e quindi quello che io voglio fare è togliere questa componente e cominciare a ridurre la variabilità che devo spiegare cominciando a dire tutte le vacche che provengono da allevamenti simili o con livelli gestionali simili gli tolgo o gli aggiungo una certa quota tutte quelle che hanno partorito nello stesso anno tolgo l'effetto dell'anno perché l'anno è stato lo stesso per tutte tutte quelle che hanno partorito nella stessa stagione tolgo l'effetto della stagione perché comunque se hanno partorito a luglio è luglio per tutti quindi se luglio è stato caldo o se luglio è stato temperato è comunque l'effetto di tutto e via via vi ho fatto un esempio molto banale via via si tolgono tutti quei fattori conosciuti e stimati che possono spiegare una parte di questa variabilità dei 5 litri alla fine mi rimane qualcosa che non è spiegabile con l'ambiente quindi non è spiegabile con l'alimentazione non è spiegabile con il clima non è spiegabile con il carro miscelatore con il tipo di sala di mungitura e quella parte che rimane non spiegata chiamiamola x io dico che questa qui è la parte genetica per tantissimi anni non si è potuto fare molto di meglio che dire sostanzialmente che tutta questa parte qua era dovuta al toro in inglese il toro si chiama sire e per cui sono stati creati dei diversi modelli matematici che sostanzialmente si ricollegavano ad un unico sistema che era cosiddetto il sire model cioè un modello un'equazione matematica dove tutta la componente della variabilità genetica veniva attribuita al toro cioè al fatto che queste due vacche qui quella da 30 e quella da 35 fossero figlie di due torri diversi e quindi tolto tutti gli effetti ambientali quindi tolta tutta la e per quanto ci è consentito sapere dicevamo che la differenza che rimaneva per spiegare questa differenza fosse tutta dovuta al padre in realtà sappiamo che in biologia non è così perché sono tutti gli organismi viventi sono frutto della combinazione tra padre e madre e quindi ci sono c'è questa variabilità genetica è dovuta sia al papà ma anche alla madre un professore molto noto nell'ambiente si chiama il professor Henderson riuscì a un certo punto a creare questa equazione questo modello matematico per spiegare la variabilità del fenotipo tra vacche da latte e creò il cosiddetto animal model che cos'è l'animal model è un'equazione dove sostanzialmente la variabilità che rimane da spiegare che è la quota genetica non è più attribuita soltanto al padre della vacca ma è attribuita alla vacca in quanto combinazione di diversi geni quindi non è più la variabilità attribuita al toro ma è ogni vacca è un universo a sé è una combinazione di geni che arrivano dal papà dal padre e arrivano dalla madre questi geni tra di loro o meglio questi alleli la parte sul filamento paterno e la parte sul filamento materno si combinano tra di loro si creano dei fenomeni che si chiamano fenomeni di additivi quando un gene aumenta diciamo così l'effetto di quell'altro di dominanza o di interazione quindi ci sono varie combinazioni varie possibilità un allele può esaltare l'effetto di quell'altro o lo può deprimere o lo può nascondere o possono in qualche modo moltiplicare l'uno l'effetto dell'altro ci sono tutte queste cose qua ma il bello di questo modello è che ogni singolo animale è una combinazione unica ed irripetibile di geni come si fa a questo punto a fare il calcolo degli indici genetici con un animal model si deve usare una matrice quindi si deve usare un chiamiamolo archivio la matrice è comunque un schema matematico molto ben preciso che si chiama matrice di parentela allora nel momento in cui io conosco esattamente tutto l'albero genealogico che sta dietro ad ogni singolo animale posso cominciare a costruire o a cercare di capire come si è arrivati a questa combinazione di geni che è nel suo dna e che lo rende unico la matrice di parentela tiene conto di tutte le relazioni che ci sono nella popolazione per cui la vacca di cui io sto esaminando la produzione di latte piuttosto che la statura piuttosto che la forma della mammella è la figlia di suo padre di sua madre ma in quanto figlia di suo padre di sua madre è anche la nipote dei suoi nonni paterni e dei suoi nonni materni la bisnipote dei suoi bisnonni eccetera 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 quindi io presuppongo che nel suo dna ci sia in qualche misura un effetto di geni che derivano anche da molto lontano quindi sia dal lato paterno del suo pedigree sia dal lato materno del suo pedigree ma il vero la vera invenzione del professor anderson fu quella di dire io posso intersecare tutte le matrici di parentela o meglio costruire un'unica grande matrice di parentela in modo tale che tutti gli animali della popolazione possano essere collegati tra loro perché perché se io vado a prendere il padre di questa vacca questo toro avrà sicuramente altre figlie e alcune avranno magari una madre simile altre avranno magari una sorella una cugina di questa vacca e quindi utilizzo tutte queste informazioni le costruisco questa enorme matrice e arrivo a stimare molto meglio la componente genetica che mi va a spiegare la variabilità quindi la g di quella famosa formula p uguale g più e per arrivare a fare questo ovviamente devo conoscere un sacco di informazioni ma soprattutto ho bisogno di una potenza di calcolo enorme per cui per tantissimi anni l'animal model esisteva soltanto come teoria perché la bravura del professor anderson è stata quella di pensare nella sua testa a un qualche cosa che i computer i calcolatori non erano ancora in grado di calcolare perché richiedeva una potenza di calcolo superiore alle macchine che c'erano all'epoca i computer dell'era moderna diciamo dagli anni 80 in avanti hanno sviluppato delle enormi capacità di calcolo e quindi oggi si può fare valutazioni genetiche calcolare gli indici tenendo conto di questa enorme matrice di parentela che dovete immaginare come un enorme quadrato e in ogni casellina di questo quadrato ci sono le relazioni tra questo animale animale d e l'animale g perché sono collegati dal fatto che per esempio hanno un bisnonno in comune quindi hanno una piccola quota del loro dna che deriva dallo stesso antenato e questa struttura è quella che oggi ci permette di calcolare con una buona accuratezza gli indici genetici di ogni singolo animale anche di una vitella e poi con l'avvento della genomica di cui parleremo la prossima volta anche di animali appena nati o addirittura in fase embrionale visto che si possono anche calcolare gli indici genetici di embrioni la finiamo qua per oggi l'argomento potrebbe essere discusso per ore ovviamente anche in maniera più approfondita volevo soltanto dirvi come si è arrivati a calcolare gli indici genetici diciamo così nell'era moderna per ora vi saluto spero di non avervi annoiato troppo io sono nel verde mi godo ancora queste giornate settembrine piacevoli come al solito vi auguro una buona domenica e ci vediamo alla prossima genesi academy ciao a tutti